... Incidente nel pomeriggio di lunedì 22 luglio, poco dopo le 14, in frazione Priacco di Cornier sulla provinciale 45. A scontrarsi uno scooter T-Max e una Fiat Punto. L'impatto è stato quanto violento. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Cornier e di Castellamonte, l'elisoccorso 218 e i carabinieri. L'uomo sullo scooter, residente a Chiesa Nuova, dopo essere stato stabilizzato, è stato ritrasportato al CTO di Torino, ferito in modo serio ma cosciente. Ferita in modo non grave invece la coppia sulla vettura che si è trasportata all'ospedale di Ivrea. La dinamica al vaglio dei carabinieri, la strada rimasta chiusa e il tempo necessario per permettere ai soccorsi di operare. e la strada rimasta chiusa